Ciao a tutti, sono Elena, volontaria di Lares Toscana, Unione Nazionale Laureati e Esperti in Protezione Civile. Siamo qui oggi per presentarvi il laboratorio didattico per grandi e piccini impariamo insieme a costruire gli isolatori sismici. L'Italia è un paese a più o meno alto rischio sismico. Se ripercorriamo anche solo gli eventi che dal 1997 ad oggi si sono succeduti, ci rendiamo conto, così come mostrato in questa immagine, di come vulnerabile sia il nostro patrimonio edilizio. Quindi cosa si intende per vulnerabilità sismica? Si intende la predisposizione di una costruzione a subire danno. Le immagini fotografiche relative alle sequenze sismiche dei terremoti dell'Umbria Marche del 1997, di San Giuliano di Puglia del 2002, dell'Aquila del 2009, dell'Emilia Romagna del 2012, del centro Italia del 2016-2017, di Ischia del 2017, emerge come essa dipende oltre che dalla sismicità del sito anche dalla modalità costruttiva e dallo stato di conservazione del materiale. Come fare allora per ridurre quanto più possibili danni? Una volta note le origini di un terremoto e le caratteristiche di sismicità del sito, per realizzare nuove costruzioni o intervenire sul costruito, un tecnico deve far sì che le nuove costruzioni vengono progettate conformemente alle indicazioni delle più recenti norme. Mentre per recuperare l'esistente possiamo intervenire attraverso tecniche di consolidamento tradizionale, come fasciature, cerchiature, incatenamenti o d'altro. In questo secondo caso significativi accrescimenti delle prestazioni possono essere perseguiti applicando moderne tecniche di dissipazione di energia oppure di isolamento alla base. Capiamo in cosa consista il concetto di isolamento alla base da un semplice esempio mostrato in questo video. Una casina di legno è fissata al tavolo mentre l'altra è appoggiata su un sistema di scodelle con biglie inserite al loro interno che vogliono riprodurre il comportamento di isolatori frequentemente usati in questi tipi di applicazioni. Quindi con una piccola casa di legno, un po' di pasta modellabile e dei cartoncini e delle biglie, il laboratorio didattico per grandi e piccini impariamo insieme a costruire gli isolatori sismici vuole far capire ai cittadini come funziona l'isolamento, ovvero in questo caso dispositivi di tipo pendolare a doppia superficie curva. Vediamo adesso dove devono essere posizionati gli isolatori. Questi devono essere posizionati al di sotto della base della casina, sotto i pilastri e all'incrocio delle pannellature principali. Come si comporta la casa così isolata rispetto ad una non isolata? Capiamolo insieme. Come si osserva dal video, la casa non isolata si muove col terreno e subisce, danneggiandosi, l'energia prodotta dal sisma, mentre la casa isolata non si danneggia perché l'energia viene filtrata dagli isolatori. L'iniziativa di far realizzare con questi pochi e semplici materiali isolatori sismici è finalizzata a far capire sia ai bambini che agli adulti come sono fatti questi isolatori, ma soprattutto quale sia il loro comportamento in caso di sisma. Il laboratorio è stato presentato per la prima volta il 29 giugno del 2019 a Borgo San Lorenzo, giorno commemorativo della scossa principale del terremoto del Mugello del 1919 e riportato a Firenze il 5 ottobre 2019 in occasione della prima edizione della Festa della Protezione Civile. Dal 10 ottobre al 3 novembre del 2019 è stato inoltre inserito all'interno dello spazio espositivo della mostra Terremoti e Prevenzione. Ora proviamo a costruirli insieme. Questo è il modellino che andremo a realizzare, costituito da tre isolatori, con ciascuno una biglia. Vediamo cosa ci serve. Ci serve un cartoncino quadrato 3 cm x 3 cm, della pasta modellabile, un cartoncino più spesso rettangolare di 15 cm x 8 cm dove faremo tre segni per posizionare gli isolatori, un tappo da conserva e un foglio di plastica robusto, poi della vinavil e delle semplici biglie. Come prima cosa andremo a utilizzare la pasta modellabile, quindi ne preleviamo un pochino, una piccola sferetta, poi prendiamo il foglio di plastica rigido e il tappo, inseriamo quindi la pasta modellabile all'interno del tappo e cerchiamo di modellarla una piccola curvatura al suo interno. Una volta modellato possiamo estrarlo dal tappo e di conseguenza dal foglio. Lo risistemiamo manualmente. Una volta fatto lo facciamo asciugare. Una volta asciugato lo possiamo anche colorare, nel nostro caso l'abbiamo colorato di argento. Adesso andiamo a prendere il cartoncino quadrato e ci incolleremo la prima metà di isolatore che abbiamo realizzato. Dopodiché andremo ad incollare il cartoncino quadrato sul cartoncino rettangolare nel punto precedentemente segnato. Ecco fatto! Questo andrà fatto per ciascun punto segnato. Otteniamo così la prima base. Dobbiamo quindi fare la stessa cosa con il secondo cartoncino rettangolare. Avremo sei dischetti così posizionati. Possiamo andare a mettere le biglie. una, due e tre. Andiamo a poggiare il secondo cartoncino sopra le biglie. Ecco fatto!